ricordiamoci l'intento di studiare Torah e di connettere la nostra alma a Dio mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti siamo arrivati al capitolo 26 di Tania un capitolo molto speciale perché adesso Alterebbi comincerà a spiegarci come evitare la depressione e la piaga che in questa generazione colpisce quasi tutti chi più chi meno è molto importante sapere gestire questo in maniera corretta. Alterebbi aveva spiegato precedentemente come sviluppare il nostro amore e timore per Dio due metodi un metodo è di studiare e meditare sulla grandezza di Dio e così sviluppare un nuovo amore e timore per Dio questa è una strada lunga e poi il metodo è la strada corta che è risvegliare l'amore e timore che è nascosto nel profondo nostro cuore. Alterebbi ha spiegato che ogni ebreo ha la capacità naturale dalla sua anima che è pronto a morire per Dio e questa facoltà che è pronto a morire per Dio e per questo non si inchina, non si converte, ammazzatemi pure, questa facoltà, questa capacità va usata per vivere per Dio, sarebbe dire ricordandosi che io amo Dio così tanto, che non voglio separarmi da Lui a tutti i costi e sono pronto a morire per Lui, sicuramente sono pronto a soffrire sofferenze minori rispetto alla sofferenza della morte, che la sofferenza della morte è la sofferenza peggiore che esiste. Rispetto a questo, trattenermi dall'adulterio, da rubare, da uccidere o qualsiasi altro tentazione che noi abbiamo, lavorare di Shabbat, mangiare una cosa che non è casher, qualsiasi cosa che noi abbiamo, qualsiasi tentazione, trattenersi ad essere una certa sofferenza. Ma questa sofferenza per sé paragonata alla sofferenza della morte è zero. E così anche nel mitzvot positive. Se io sono pronto a morire, per non staccarmi da Dio, sicuramente sono pronto a svegliarmi presto per andare in Tempio, a impegnarmi a studiare Torah e fare carità, aiutare il prossimo e tutto quanto, per rimanere connesso a Dio in Eterno, perché ogni volta che faccio la volontà di Dio mi connetto a Lui, ogni volta che ometto di fare la volontà di Dio, mi disconnetto da Lui totalmente, esattamente come nell'edolatria. E ora l'alterebbe va a spiegare gli ostacoli che possono accadere strada facendo. E uno dei ostacoli principali è appunto la depressione e la tristezza. E dunque l'alterebbe dice così. Bisogna dire qui una grande regola. Questa è una regola cardinale. Come per vincere? In una lotta materiale, per esempio le due persone che stanno facendo lotta libera, uno è molto forte e l'altro è debole. Però quello più forte oggi lui è di cattivo umore, è impigrito, è pesante. Sarà buttato giù a terra facilmente dal suo avversario, nonostante che l'avversario è più debole e lui è più forte. Perché? Perché gli manca la gioia, gli manca l'energia, gli manca la velocità. E così è proprio anche nella nostra guerra quotidiana contro la nostra inclinazione negativa. Noi sappiamo che ogni ebreo ha un'ezza tov, un'ezza ra, un'inclinazione negativa e un'inclinazione positiva. L'inclinazione negativa vuole che ne mangiare, beviamo, dormiamo, facciamo i fatti nostri, ricordiamo come delle bestie praticamente. La creazione è divina, vuole che ne facciamo la volontà di Dio. E qui c'è una lotta continua, senza tregua. Se noi vogliamo vincere questa lotta, non possiamo vincere questa lotta con la pigrizia e con la pesantezza che esse derivano, da dove deriva la pigrizia e la pesantezza? Dalla tristezza, dal fatto che il nostro cuore è rotturato come una pietra. L'unico modo per vincere questa guerra è con la velocità, con la lacrità, che deriva dalla gioia, dall'apertura del cuore, dal fatto che il cuore è pulito e purificato da qualsiasi preoccupazione. Quello che è scritto nelle scritture, che in ogni tristezza ci sia un vantaggio, e dunque sembra che la tristezza abbia qualcosa di buono, dicerebbe no, no, questo è uno sbaglio. L'incontraio, da questo linguaggio è chiaro che la tristezza per sé non ha nessun vantaggio. Però la tristezza può portare a un vantaggio. E dunque, quando c'è la tristezza, vedi di farti portare il vantaggio. Qual è il vantaggio che può venire dalla tristezza? È la gioia, la vera gioia in Dio che viene dopo la vera tristezza. La vera tristezza è fatta in momenti popizzi. La persona medita sui suoi peccati, con un cuore amareggiato. Con un cuore rotto. E tramite questo, che lui è veramente amareggiato, con la sua anima, con il suo cuore, sui suoi peccati, rompe lo spirito di impurità. L'energia negativa dell'altro lato, dell'inclinazione negativa, la rompe. Elimina la corteccia di ferro che separa tra noi e Dio. Come è scritto nello Zohar, sul versetto Lev nishbar, cuore rotto. C'è un versetto in esambio che dice, un cuore rotto Dio tu non isprezzi. E il versetto dice, Uach nishbarà, lev nishbar. Spirito rotto, cuore rotto. L'osora interpreta che tramite il cuore rotto, si rompe lo spirito. Quale spirito? Spirito negativo, l'inclinazione negativa. E dunque, tramite la vera tristezza, possiamo eliminare il male dell'inclinazione negativa. E allora si riesce ad arrivare alla vera gioia. E come continua il versetto, ovviamente questa è la prima parte del versetto. E il versetto dice, Tashmieni sason vizimcha, fammi sentire la gioia e la felicità. Tashmieni sason vizia, fammi ritornare la gioia e la tua salvezza e il tuo spirito generoso mi sostenga. Dunque, dopo che uno ha meditato su tutti i suoi peccati, è arrivato a essere veramente amareggiato per il fatto che lui sia allontanato da Dio così tanto. Dopo lui fa teshuva, ritorna a Dio e ritrova la vera gioia e che Dio gli regala questa gioia. E questo è il motivo semplice per cui la Rizal ha istituito di recitare questo salmo dopo Tigun Khazot. Cosa è Tigun Khazot? Tigun Khazot è una preghiera che si fa a mezzanotte. Una volta, la gente andava a dormire presto. Subito, con uscì delle stelle, si pregava e andava a dormire. E si svegliavano a mezzanotte. A mezzanotte, si radunavano e facevano la preghiera di Tigun Khazot che sono della mentele sulla distruzione del santuario, sulla distruzione del Betta Mikdash. Dopo aver recitato questa preghiera di Tigun Khazot di mezzanotte, si studiava Torah fino al mattino. Però lo studio di Torah deve essere con gioia, mentre la mentele di Tigun Khazot sono con tristezza. Dunque, la Rizal ha istituito di recitare questo Salmo tra Tigun Khazot e lo studio della Torah. Così che dopo la vera tristezza di Tigun Khazot si possa arrivare alla vera gioia nello studio della Torah. Perché questa gioia che arriva dopo la tristezza ha un grandissimo vantaggio. Come il vantaggio della luce che arriva dal buio proprio. Come è scritto nello Zohar sul versetto. Questo versetto ha detto resta l'umore. E dice così. Ho visto che c'è un vantaggio alla saggezza dalla stupidaggine come il vantaggio della luce rispetto al buio. e la Zohar chiede ma questa è una cosa semplice e banale che la saggezza sia superiore alla stupidaggine e la luce sia superiore al buio. È ovvio. Cosa ci sta dicendo il resto del umore? Spiega la Zohar. No, il resto del umore sta dicendo che la saggezza viene apprezzata molto di più dopo aver sentito le stupidaggine. La luce viene apprezzata molto di più dopo essere stato nel buio. Tra parentesi abbiamo appena letto nella Torah la parasha di Yitro che Yitro lo suocero di Moshe lui era un ex consigliore del farone era uno che aveva provato tutti i tipi di idolatria aveva provato tutte le religioni che c'erano. e dopo quando lui ha sentito il miracolo del Mar Rosso è venuto da Mosè dagli ebrei in l'eserto e lui ha pronunciato adesso so che Dio è il vero Dio perché gli egiziani avevano pensato di uccidere gli ebrei buttando i bambini nel Nilo con l'acqua e nella stessa maniera che loro avevano intenzione di uccidere gli ebrei e lì si sono cascati e i nostri saggi dicono che finché Yitro non è venuto con questa annunciazione con questo annuncio la Torah non poteva essere data Dio ha potuto dare dieci comandamenti solo dopo che Yitro che era un ex prete di tutte le religioni approvate tutte e quando lui ha ammesso che solo Dio solo l'ebraismo è la vera religione allora Dio ha dato dieci comandamenti e dunque proprio quello che viene dal buio dal buio più presto lui può apprezzare e riconoscere la luce molto di più la Torah c'è un versetto che parla in maniera molto esplicita della gioia e dice ci sono delle maledizioni alla fine tutte le maledizioni il versetto dice perché hai tutta queste maledizioni perché non hai servito Hashem tuo Dio con gioia con la grande abbondanza che Dio ti ha dato hai risaputo l'aspirazione della risa su questo versetto prima di spiegare spiegiamo l'aspirazione della risa vediamo l'aspirazione semplice l'aspirazione semplice è che siccome Dio ha dato una grande abbondanza e tu non ti sei impegnato a servire Dio con gioia allora sarai punito che dovrai servire i tuoi nemici nudo senza cibo senza niente e dunque l'aspirazione è che o non hai servito Dio o non hai servito Dio con gioia invece la risa spiega in maniera molto più profonda Dio ha dato una grande abbondanza e tu dovresti servire Dio come che avessi tutto con la gioia tale sarebbe dire che immaginatevi che una persona ha tutto l'oro del mondo tutti i soldi del mondo tutte le riccheze del mondo sono sue è tutto suo avrebbe una grande gioia benissimo quando noi dobbiamo servire Dio dobbiamo servire Dio con una gioia maggiore di questa gioia una gioia maggiore di tutte le cose materiali che uno può avere deve essere la gioia che serviamo Dio dunque vediamo sappiamo che è molto importante servire Dio con gioia ma purtroppo questa gioia alle volte è molto elusiva non sappiamo come ottenere questa gioia come liberarci da nostre preoccupazioni e su queste altre domande risponderanno la trebbe nei prossimi giorni la trebbe stava spiegando che è importante servire Dio con grandissima gioia però per poter servire Dio con grandissima gioia dobbiamo eliminare la tristezza e le preoccupazioni che gironzano nel nostro cuore come fare la trebbe ci dice il consiglio per purificare il proprio cuore da qualsiasi tristezza e da qualsiasi ombra o anche preoccupazione la più lieve di cose stiamo parlando di preoccupazioni per cose materiali anche cose importanti tipo figli salute sostentamento non cose futili banali cose importanti però nonostante ciò noi dobbiamo ricordarci quello che dicono sui saggi come che uno deve benedire e ringraziare Dio per le cose positive in stessa maniera deve ringraziare Dio per le cose negative e il Talmud spiega questo detto dei saggi che bisogna accettare le cose negative con la stessa gioia con cui accetti le cose positive e dunque se ti chiamano e dicono hai vinto un milione di euro alla lotteria salterai di gioia stessi salti di gioia devi fare quanto senti l'opposto hai perso un milione di euro e così per tutte le altre cose positive e negative perché in realtà anche questa cosa negativa è anche bene solo che non è un bene rivelato e comprensibile visibile ai nostri occhi di carne perché non è comprensibile per noi perché questo bene è un bene molto elevato che deriva da Alma di Kasia si significa letteralmente il mondo nascosto il mondo nascosto è più elevato del mondo rivelato e dunque l'energia divina nel mondo rivelato è molto limitata talmente limitata che noi possiamo comprendere e apprezzare l'energia divina del mondo nascosto è molto più potente molto più forte e dunque è impossibile per noi apprezzarla e per cui dal nostro punto di vista la percepiamo come male ma in realtà è bene ora il nome di Dio il tetragramma è composto da quattro lettere Yud K Vav K le prime due lettere sono più elevate rappresentano il mondo nascosto Yud K le ultime due lettere Vav K rappresentano il mondo rivelato e dunque Vav K è il mondo rivelato e il mondo nascosto Yud K è questo che dice il versetto beato beato l'uomo che lo fai soffrire Dio ma quale nome di Dio usa usa il nome Yud K e dunque la prima metà del tetragramma che si riferisce al mondo nascosto e per questo motivo dicono si saggiano che quelli che gioiscono nelle sofferenze su di loro si applica il versetto e i miei amati sarebbe dire quelli che amano Dio come quando il sole esce nella sua forza sarebbe dire che quando è vera Mashiach Dio si rivelerà con la massima forza come il sole a mezzogiorno che è fortissimo e se uno non si trova apprezzato non si trova nel deserto in un posto c'era 4 ore quando il sole picchi a mezzogiorno è fortissimo se uno si è attrezzato non può sopravvivere stessa cosa nell'era messianica Dio si rivelerà in maniera molto forte molto potente senza natura che nasconde Dio oggi senza nome di E dunque sarà un livello di energia divina molto elevata per attrezzarsi per poter recepire questa energia senza scottarsi senza bruciarsi e come si fa ad attrezzarsi? Avendo una fede una coscienza sicura in questo mondo materiale che in tutte le sofferenze derivano dal mondo nascosto Dio come ricompensa cosa ci dà? Ci dà la capacità di sopportare la rivelazione del mondo nascosto che sarà in futuro ora vediamo dentro quando uno gioisce sai questa sofferenza deriva dal mondo nascosto dunque da un livello di divinità molto elevato e dunque sei contento perché? perché Dio è accanto a te in maniera più forte che se fosse tutto bello positivo e come dice il versetto che la tua bontà la tua vicinanza vale più che la vita e dunque la vicinanza a Dio è molto più forte molto più elevata infinitamente più elevata nel mondo di Itkasya nel mondo nascosto perché lì è nascosta la divinità la sua gloria la sua forza e come dice il versetto io scelgo il versetto del lion e Dio egli si siede in un segreto supremo e dunque uno che accoglie con gioia tutte le cose che appaiono negative vuol dire che lui valuta la presenza la vicinanza a Dio più che qualsiasi cosa materiale allora merita che quando uscirà il sole con la sua forza sarebbe dire quando il nome di Vio il tetragramma si rivelerà con tutta la sua forza senza nascondimento del nome di Elohim che c'è in questo mondo attuale allora si rivelerà il mondo nascosto con una grandissima rivelazione una rivelazione enorme a tutti quelli che si nascondevano in Dio sarebbe dire si riparavano in Dio in questo mondo avevano fiducia in Dio e stavano sotto la sua ombra l'ombra della saggezza che viene chiamata perché viene chiamata ombra perché non è una luce è un bene rivelato è un'ombra perché dal nostro punto di vista noi non comprendiamo che bene c'è qua dentro ma sappiamo che siamo sotto l'ombra di Dio e dunque quando uno è felice nelle sofferenze dimostra che ama la vicinanza a Dio più che questo mondo materiale allora Dio gli dà la forza di ottenere questa rivelazione molto rivelata nel mondo futuro è quando uno si ricorderà che ogni cosa che accade in realtà un bene divino nascosto incomprensibile ma un bene e c'è una grandissima vicinanza a Dio non sarà più triste o preoccupato per le cose materiali che accadono abbiamo studiato su come liberare il cuore dalle preoccupazioni materiali problemi con i figli problemi di salute problemi economici sostentamento ora la terapia ci spiegherà come eliminare la tristezza per motivi spirituali uno magari è triste non perché manca da mangiare c'è paura assoluta ma perché lontano da Dio perché Sacra ha commesso molti peccati e dunque la terapia dice così però la saggezza per motivi spirituali uno deve trovare consiglio nella sua anima come liberarsene ovviamente mentre uno che sta sapendo Dio non deve avere alcuna tristezza perché noi sappiamo che siamo comandati a servire Dio con gioia se tu mentre che servi Dio stai studiando Torà facendo Mitzvot sei triste non potrai servire Dio con gioia per cui lì ovviamente la tristezza è proprio squalificata ma anche una persona che sta lavorando sta facendo i suoi affari e gli casca di colpo la tristezza per motivi spirituali ah stamattina non ho pregato bene e non ho fatto certi Mitzvot ho commesso a certi peccati deve sapere che questa tristezza non è vera è un trucco dello Yetzir Hara dell'inclinazione negativa Yetzir Hara ti manda questi pensieri negativi per farti deprimere quando tu sei depresso si abbassano le tue difese non solo immunitarie materiali ma anche quelle spirituali e così Yetzir Hara può convincerti a peccare più facilmente invece tanto ormai tu hai già peccato così tanto almeno goiti la vita e pecca ancora un po' che Dio ci saldi perché se fosse una tristezza vera e non un trucco di Yetzir Hara da dove viene questa tristezza vera in mezzo che tu stai lavorando una tristezza vera deriva dall'amore per Dio dal timore per Dio com'è che fa cascare così da solo in mezzo ai tuoi affari e dunque la conclusione è che se ti viene tristezza sia in mezzo allo studio della Torah o alla preghiera sia in mezzo ai tuoi affari devi rispondere al tuo cuore così ora non è il momento per la vera tristezza neanche per la preoccupazione per i peccati più severi che Dio ci salvi perché per queste cose sono cose serie ci vuole un momento popizio bisogna fissare dei tempi stabiliti che uno è concentrato e allora lui medita sulla grandezza di Dio a cui ha peccato e allora tramite questa meditazione fatta bene nei momenti giusti con concentrazione con dedicazione eccetera allora arriva la vera tristezza rompe il suo cuore sarebbe a dire rompe l'inclinazione negativa dell'anima animale che risiede nel cuore con una vera amarezza come è spiegato questo momento altrove sarebbe a dire nel terzo volume di Tania capitoli 7 e 11 e lì è spiegato che subito dopo che hai ottenuto questa vera amarezza questa vera tristezza per via dai tuoi peccati e dalla tua notanza a Dio allora devi togliere questa tristezza totalmente dal tuo cuore come un piatto sporco mentre il sapone si lava poi dopo si nasce a cuore via a togliere bene questo sapone e credere con fede completa che Dio ha eliminato il mio peccato e Dio ha una grande misericordia e dunque lui perdona molto mentre una persona se tu hai peccato una persona una volta ti puoi perdonare una volta la seconda volta è molto difficile perdonare la terza volta quasi impossibile invece Dio siccome lui è infinito ti può perdonare l'ennesima volta come che fosse la prima volta chiaramente non bisogna abusare di questo e dopo che hai ottenuto la tristezza la vera amarezza la togli via riconoscendo che Dio ti ha perdonato e Dio perdona molto questa è la vera gioia che viene dopo la vera tristezza e dunque qual è la differenza tra la vera tristezza e la falsa tristezza la falsa tristezza ti fa deprimere e ti porta a peccare la vera tristezza la vera amarezza ti porta a essere felice perché la vera amarezza è la teshuva e dopo la teshuva arriva la vera felicità che sa che Dio ti ha perdonato e ti ha eliminato il peccato Salam a tutti e la 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 che l'ho cioè Grazie.